Raga, si è appena conclusa Palermo Latina, prima partita di campionato, sono soddisfatto e soprattutto sono emozionato perché dopo due anni circa sono tornato allo stadio scusate il bordello, mi bloccheranno per il propri right ma è uguale ottima prima partita, tanti errori da parte nostra, in fase offensiva si poteva chiudere prima la partita abbiamo vinto grazie ai due rigori, due rigori che però comunque ci hanno permesso di portarci a casa i primi tre punti la squadra ha giocato bene, tanti falli nel primo tempo, un po' da entrambe le parti un rosso, netto, nettissimo, espulsione, farò da ultimo uomo parlare dei singoli davvero in questa partita sarebbe brutto perché per me ancora calcio d'agosto la squadra ha bisogno di tempo per mettersi, adesso non c'è più rumore, ha bisogno di tempo per giocare al meglio però comunque già oggi si è visto già qualcosa, il palermo è pronto, siamo carichi, sarà una bella stagione Brunori, troppa roba, davvero un grande attaccante di livello, gioca, fa seguire la squadra fisicamente fortissimo, fa sportellate, davvero super contento del suo arrivo Saluto a Dido, allenatore della Dina, davvero gran partita comunque, nonostante è arrivata la vittoria grazie ai due rigori però sono soddisfatto perché l'anno scorso abbiamo visto che il palermo faticava soprattutto a cominciare, a ingranare lo scorso anno eravamo molto indietro dal punto di vista delle preparazioni, un po' tutto invece quest'anno si vede che l'aria è un po' cambiata, stiamo imparando dai nostri errori dagli errori proprio oggi si è visto, oggi aver cominciato bene questa stagione, quest'annata è la cosa più importante da fare, sarà un cambiato molto molto lungo, secondo me è scontata come cosa la rosa è lunga, il mister sarà bravo sicuramente, ce l'auguriamo ovviamente a usarli un po' tutti i nostri giocatori dispiace per quelli che non stanno giocando adesso, si li può, è compagnia bella che magari si scaldano e poi non entrano, sono giovani e hanno voglia di spaccare il mondo però ci vuole tempo, ci sarà spazio e tempo per tutti quest'anno, Filippi è bravo proprio arrivo vado, 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 finiamo, prendimi, prendimi, no non è un problema, mi stanno cacciando ma non è un problema arrivo, arrivo, un secondo, un secondo, allora, comunque, soddisfattissimo, ci aspettavamo una vittoria per cominciare questo campionato, la vittoria è arrivata, grazie a due rigori il primo segnato da Floriano, il secondo segnato da Solerico, si è sbloccato finalmente anche lui, quindi ci auguriamo che sia soltanto, che sia l'inizio migliore in assoluto quindi io mi auguro che sia un campionato bello per tutti noi e sono certo, e sono certo che quest'anno il Palermo ci farà divertire vi lascio con questo, anche se dalla curva sud non si vede veramente un cazzo e lo superiore, grazie, lo superiore perché è forse soltanto lì che si riesce a vedere tutto, comunque scappiamo, 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 un salutone a tutti, e da Bibio, un bacione sempre Forza Palermo e difficilmente uscirà la reaction domani, molto molto difficilmente comunque commentate, fatemi sapere che ne pensate, e un bacione a tutti